Stefano Giacquinto, candidato sindaco per la lista Uniti per Cagliazzo. Lei ha già svolto, già ricoperto la carica di sindaco per due legislature, nella passata che sta volgendo al termine, era in maggioranza, poi nel corso della legislatura si è reso indipendente. Ma quali sono le ragioni, assessore provinciale e anche Stato, il suo trascorso politico è abbastanza corposo, ma quali sono le ragioni che lo hanno indotto a ricandidarsi alla carica di sindaco? Sì, solo una piccola precisazione, non mi sono reso indipendente nell'ultima amministrazione, bensì c'è stato un evento politico che ci ha portati tra i banchi della minoranza, però ormai è finita questa legislatura, adesso passiamo al futuro e soprattutto per questo che ho deciso di ricandidarmi anche per portare avanti un po' quello che si era stato progettato di fare negli anni precedenti, vista la mia consigliatura dal 2003 al 2013, per cui adesso vogliamo riprendere quei progetti e portarli avanti visto anche il lasso di tempo che è passato senza andare oltre. La sua formazione è una lista civica, come si può evincere stesso dal nome della lista, ma come è formata la sua lista? È una lista civica che non guarda i partiti in particolare, bensì guarda le persone, guarda i progetti futuri per Cagliazzo. Abbiamo messo insieme varie professionalità, soprattutto guardando il territorio, ogni parte del territorio avrà un suo rappresentante o auspichiamo di poter avere un proprio rappresentante e ci sono diverse potenzialità, dal più giovane al più anziano, che sono io, candidato sindaco. Però c'è una grande voglia di fare, di fare bene, ma soprattutto guardare alle esigenze dei cittadini, che sono tante e che soprattutto in questi ultimi anni sono emerse. Ovviamente al di là dei candidati, gli elettori vogliono anche sapere cosa proponete di poter fare negli anni, nei prossimi cinque anni di legislatura. Quindi diciamo un po' quali sono i punti cardini del suo programma. In primis vogliamo rilanciare Cagliazzo, che Cagliazzo ritorni ad essere quel comune fiore all'occhiello dell'alto casertano. Noi siamo alle porte del Matese, a 20 minuti da Caserta, abbiamo grandi potenzialità e questo è quello che noi vogliamo sviluppare. Avevamo iniziato a portare avanti questo tipo di progetto per la nostra città, si è interrotto per qualche anno. Adesso riprendiamo il discorso, riprendiamo con tanta passione, con tanto entusiasmo, ma soprattutto con tanta concretezza. Allora approfittiamo un po' delle nostre telecamere e facciamo conto come se ci trovassimo in una piazza di Cagliazzo e quindi di fronte a lei ci sono i cittadini di Cagliazzo. Quindi ci spieghi un po' le ragioni per le quali l'elettore Cagliatino debba votare per il suo schieramento. Io penso che i cittadini di Cagliazzo abbiano compreso già negli anni precedenti che cosa è stato fatto per la nostra città. Naturalmente è stato fatto poco e possiamo fare ancora molto, ma nonostante questo credo che i cittadini possano darci la loro fiducia perché abbiamo dato prova negli anni precedenti di saper amministrare, soprattutto guardando a quelle criticità che la città oggi detiene e quindi a quelle criticità che noi ci rivolgiamo e ci auguriamo di poter risolvere.